Buongiorno a tutti e benvenuti nella sala stampa Ciro Vigorito per la prevista conferenza stampa del SPAL Benevento. Siamo in diretta su 8channel, canale 16 del Digitale Terrestre, in compagnia di Mr. Stellone che a breve risponderà alle domande dei colleghi. Iniziamo subito con Sonia Lantella, 8channel. Buongiorno Mr. Poi dopo avremo l'occasione di farci gli auguri, anche se la Pasquetta la passeremo insieme. L'abbiamo un po' definita tutti la partita della vita, fondamentale la vittoria con la SPAL per continuare a credere nell'impresa. Abbiamo anche detto che hai quasi tutti i calciatori a disposizione, però se puoi un po' aggiornarci sulla situazione del Kawakibi potrebbe essere pronto dal primo minuto oppure no? Teio che aveva avuto un piccolo infortunio, Beseli, insomma un po' la situazione in generale. No, no, Beseli sì, l'ho detto anch'io in settimana, ma si è allenato regolarmente e non ha mai avuto nessun problema. Teio nell'allenamento dell'altro ieri ha girato un po' la capeglia, ma oggi ha fatto un test all'inizio di allenamento e si è allenato regolare con la squadra. Abbiamo i due squalificati, per il resto abbiamo recuperato tutti. Insomma, quindi è la partita della vita, come ho detto in settimana, tutti insieme per vincere senza calcoli. Nel senso, sai, si guarda gli altri, si guarda quante partite serviranno per vincere, da vincere, per salvarci direttamente, attraverso i play-out. Oggi conta questa, domani conta, lunedì conta la partita con la SPAL. Senza fare calcoli dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere per noi, per levarci dalla testa quello che oggi, o quello che ha una squadra quando in sei partite ne vince zero, perché noi nelle ultime otto partite ne abbiamo vinta una con il Brescia. Prima di me, penso che in sette partite, otto partite, non si era mai vinto. Quindi è una squadra che nelle ultime quindici partite ha raccolto solo una vittoria. E la testa di questi ragazzi non può essere libera da tensioni, subentra l'ansia, subentra il timore. E quindi è una partita troppo importante da giocare con equilibrio, da giocare con la giusta cattiveria. Senza andare all'arrembaggio nei primi minuti, perché poi diventa che se ti sbilanci è molto complicata nel caso dovessi subire gol, rimediarla. È una partita che dobbiamo invece partire forte, ma sempre con equilibrio, dove dobbiamo cercare di andare in vantaggio, di sbloccarla. Che è quello che non ci è mai successo nelle otto partite mie, tranne con il Brescia che l'hai portata a casa. Veniamo comunque nelle ultime quattro partite da buone prestazioni. Ci metto la partita con la Ternana, ci metto la buona gara con il Como nel primo tempo, nel suo tempo di sacrificio perché eravamo rimasti in dieci. C'è la partita col Pisa che è da dimenticare. Però ripartiamo dall'aspetto positivo del primo tempo con il Bari, ma non per quanto riguarda il modulo. Il modulo abbiamo provato delle cose altro ieri, abbiamo provato delle cose oggi. Devo ancora decidere, quello che conta poi sono come ti muovi in mezzo al campo. Dobbiamo vedere in base anche alla loro formazione come giocheranno. La Spalla sta giocando spesso con il 4-3-3, che a volte è 4-1-2, a volte hanno giocato con il 3-4-1-2. Quindi dobbiamo essere organizzati in tutte le situazioni della gara. Dobbiamo affrontarla con il veleno, con il sangue agli occhi per noi, per le nostre famiglie, per il Presidente, per i tifosi. Per affrontare poi la gara dopo allo stesso modo. Quindi una partita determinante. Non posso pensare a un altro risultato diverso dalla vittoria. Dobbiamo metterci voglia, impegno, corsa, sacrificio, spirito, entusiasmo per scavallare quello che è il momento della squadra, che è il momento negativo dei risultati e della classifica. Solo una vittoria ci può dare là a sperare nelle restanti poi 5-6 partite. Franco Santo, Corriere dello Sport, prego. Salve, mister. Si parlava di disponibilità, però volevo sapere se i reduci dall'infermeria, chiamiamole così, sarebbero tutti in grado di giocare dal primo minuto? No, infatti mi riallaccio alla domanda su El Kaukibi. El Kaukibi si è allenato praticamente oggi, a tutti gli effetti, con la squadra. Fermo da due mesi e non può, logicamente, partire dall'inizio. Bisogna stare anche attenti se dovesse succedere, insomma, di dividere un po'. Perché lì c'è il rischio che si può magari rifare male su quel punto. Mentre i Glick e Ciano, che sono rientrati dall'infortunio, stanno bene a livello clinico sul ginocchio. Stanno benissimo. E faccio i complimenti ai preparatori che l'hanno rimesso in piedi. Non hanno i minuti nelle gambe, nel senso che è una partita che mi serve gente pronta. Non che non lo siano, ma quando un giocatore è fermo da due o tre mesi c'è il discorso che magari non hai i 90 minuti, ma c'è il discorso che anche se parti subito dall'inizio può essere che fai due o tre scatti e vai in affanno e recuperi a livello organico, a livello di cuore. Ci metti sei minuti per recuperare da tre scatti tre allunghi. Insomma, quindi è solo per quello che non hanno i 90 minuti, non per un discorso che potrebbero rifarsi male all'intervento al ginocchio che hanno avuto. Cosa diversa di Ercao Gibi, non c'è un discorso di minuti, c'è un discorso che su un discorso muscolare bisogna stare un po' più attenti. Massimiliano Mugavero, il sonno quotidiano, prego. Salve mister, buongiorno. Volevo chiederle che settimana è stata per la squadra, se anche negli allenamenti si è avvertito un po' il peso dell'importanza della partita e soprattutto se la rabbia di Bari è sfumata e magari si è trasformata in energia per affrontare al meglio la partita di lunedì. Ma ormai sono 11 anni che faccio questo mestiere e l'avevo fatto per altri 15-16 anni da calciatore, nei professionisti, senza calcolare da quando ho cominciato a giocare. Grandi prestazioni passando settimane negative o facendo anche a volte allenamenti non all'altezza e viceversa. Grandi sconfitte, grandi partite negative con settimane di grande concentrazione. Purtroppo non c'è una regola dove a volte dici e vedi delle cose in settimana e sei sicuro al 100% che quei giocatori faranno bene perché a saperlo uno vede l'allenamento, vede i dati e fa la formazione. Purtroppo questo non ridice sempre nel calcio e bisognerebbe avere una sfera magica per capire che magari quel giocatore che in settimana lo vedi sei può essere perché si sta sentendo troppo la partita e quindi magari non è perché non sta bene fisicamente e quindi devi capire certe cose. Certo, capirle su 11 giocatori ci permette poi di vincere le partite e vuol dire che fai le scelte giuste. Di certo la formazione che scenderà in campo domani è in base a lunedì, in base a quello che abbiamo visto in settimana, in base all'avversario, in base all'aspetto fisico, all'aspetto mentale, in base al modulo che vorremmo adottare, che ci permette di cambiare posizioni di giocatori senza fare cambi al primo tempo. Insomma, quindi è studiata insieme ai miei collaboratori su tutti gli aspetti. Noi li osserviamo ogni giorno, tre, quattro ore, a volte cinque ore, siamo al campo con loro per analizzare non solo l'allenamento, insieme ai miei collaboratori ci guardiamo i dati di quanto hanno corso, di come stanno, di come recuperano dopo tre scatti massimali e quello va poi a farmi prendere decisioni su chi deve partire dall'inizio, chi deve subentrare o chi non deve essere convocato. Luca Maio, la Gazzetta dello Sport, prego. Buongiorno mister, bisogna vincere per forza, hai detto, e quindi servono i gol. Il problema è che i nostri attaccanti non segnano, credo che l'ultimo giocatore di attacco che ha segnato sia Ciano, il rigore a Cosenza. Come sta la situazione e se questa anemia da gol, che riguarda un po' tutti, ti preoccupa? Ma sì, è evidente che non siamo una squadra che fa gol, non siamo neanche una squadra che ha messo, mette sotto gli avversari con 10, 15, 20 conclusioni a partita. Difficile capovolgere questo andazzo, non è facile. Non è detto che se metti 4-5 attaccanti questo può variare, perché sì, ti può variare quando tu attacchi, ma poi ci stanno i momenti che la squadra avversaria ha la palla e ti diventa un problema avere 5 attaccanti sulla palla che non rientrano. Quindi dobbiamo avere equilibrio, dobbiamo essere ficcanti in quelle poche occasioni che ci lasceranno e dobbiamo essere avvelenati su ogni pallone quando avranno la palla loro. Se attaccarli alti, se aspettare, sono tutti i momenti che li decide la squadra in campo, il momento della partita, se attaccano con tanti uomini o se anche loro stanno in attesa delle nostre giocate. Per me la cosa più semplice come risposta in questi momenti è capire i momenti della partita, se quando andare o no. È normale che per aumentare le probabilità di segnare devi attaccare, devi creare, devi segnare, devi smarcarti, devi saltare l'uomo. A volte questo non ti riesce, ma si vincono anche le partite con un gol da 30 meri, si vincono anche le partite al novantesimo su una punizione o su un calcio d'angolo. Di certo non dobbiamo andare sotto. Questo per me sarà determinante e fondamentale per la gara di lunedì. Augusto Serino, anteprima24.it, prego. Salve, tra gli scolificati c'è Bibiani. Le volevo chiedere una cosa per quanto riguarda Schiattarella. Com'è la condizione e poi soprattutto se in quel ruolo un'alternativa dall'inizio in corsa può essere Kubica? Sì, sì, certo. Abbiamo mezzo al campo, insomma, abbiamo Schiattarella, Carici, Kubica, abbiamo che ce lo può fare Kustupias, più come mezzala che come centrocampo a due. Quindi in base alle caratteristiche di chi scenderà in campo domani dobbiamo metterli nella posizione giusta, ma comunque stanno bene e anche loro hanno avvertito una settimana lunga di tensione perché ci tengono e perché vogliamo uscire tutti insieme da questa situazione. Quindi ho visto una settimana dove c'è stato impegno per cercare di mettermi in difficoltà nelle scelte. Domenico Passaro, Lab TV, prego. Salve, mister, buongiorno. Salve. E' inutile che glieli ripete dati, cioè le ammunizioni, le ultime tre partite sempre degli espulsi, squadra che non tira mai in porta, assinenza da gol. Le chiedo quindi per prima cosa su che cosa aggrapparsi obiettivamente. E poi la seconda, su questo problema del gol è evidente che in questo momento questi attaccanti non riescono a dar nulla per un problema mentale, fisico, insomma queste sono valutazioni che fa lei. Le chiedo, magari ha pensato anche, non lo so, a delle situazioni alternative senza chiaramente fare gli scienziati del calcio. Però non so, il fatto che Teio in questo momento riesca ad essere magari l'unico giocatore ad essere risolutore non le cito Farias perché mi sembra evidente che ormai l'abbia fatto fuori. Però le chiedo quindi se ci possono essere delle soluzioni alternative che siano anche fuori contesto ma in un momento che insomma è drammatico soprattutto dal punto di vista della realizzazione. Grazie. Ma quello dipende sempre da come ti muovi in campo, da come vuoi la palla. Se riesci a saltare l'uomo da dietro o con trame di passaggio o perché i terzini o i quinti riescono a dribblare o gli esterni di centrocampo riescono a dribblare l'uomo tu aumentano le probabilità di avanzare, di prendere terreno, di prendere campo e di arrivare nell'area avversaria. Se da dietro o non si salta l'uomo o non si imposta veloce o ci metti tanto a girare la palla davanti può giocare chiunque, non riesce a prendere terreno perché non riesce a saltare l'uomo, non riesce a fare una giocata veloce. Quindi come ho detto prima, al di là del modulo, al di là degli interpreti, quello che conta è la velocità di come fai le giocate. A Bari abbiamo fatto 4-5 conclusioni nel primo tempo, non con trame di passaggio fantastiche da palla al portiere con situazioni dove siamo stati veloci su un fallo laterale a conquistare campo, a ribattere lo veloce abbiamo fatto tre occasioni perché ci siamo sistemati veloci su un fallo laterale contro siamo stati bravi a prendere due o tre seconde palle, abbiamo riconquistato palla a 20 meriti alla porta loro oggi non abbiamo una tranquillità mentale da permetterci di fare trame di passaggio, palleggio, rotazioni non c'è, non esiste, già in Serie B è difficilissimo questo. In più quando ci si mette la non tranquillità di una squadra che in 31 partite ha vinto 7 volte, vi assicuro che non c'è, succede anche a voi quando giocate a volte a calcetto con gli amici se sbagliate due o tre gol, cominciate a indicare il compagno che ha la palla a dirgli non me la passare adesso e figuratevi loro che stanno vivendo questo momento dall'inizio dell'anno, che non c'è quella tranquillità è solo un discorso mentale. Purtroppo in queste otto partite noi non siamo riusciti a scavallare come nella mia gestione ci sono riuscito da altre parti, a volte ci sono riuscito, a volte non ci sono riuscito ci abbiamo provato. Oggi stare qui che in otto partite magari abbiamo raccolto tre vittorie, quattro vittorie tre pareggi e una sconfitta, era un'altra squadra, ti cambia totalmente il giudizio su quel giocatore che oggi ti sembra non veloce, non attento, non sa dribblare, che non sa crossare, che non sa tirare c'è un aspetto principale che è l'aspetto mentale e l'aspetto mentale è difficilissimo da allenare ti torna quando vinci, ti torna quando ti sblocchi, ti torna così per gli attaccanti ma così per i difensori così per gli esterni e i centrocampisti. Roberto Corrado, Cronache del Sannio Mister buongiorno, nelle ultime settimane al di là di qualche decisione arbitrale discutibile è emersa un'altra problematica che questa squadra non riesce a terminare le partite in undici è preoccupato per questa cosa? Andiamo a vedere realmente quello che è accaduto insomma, a Bari il primo fallo di Acampora per me non è neanche fallo ed è una munizione regalata sul secondo fallo da munizione questo nervosismo, questa situazione del momento della classifica stato d'animo può portare a volte a fare falli di nervosismo come il secondo suo l'altra espulsione che c'è stata di Teio abbiamo visto le doppie munizioni di due falli inesistenti l'altra munizione di Improta d'Ascoli, il secondo fallo è una mano appoggiata sulla spalla quindi non è che tutte le munizioni prese o espulsioni sono state giuste io ho visto un po' di dati, noi nella mia gestione nelle otto partite abbiamo fatto 127 falli e ne abbiamo subiti 125, quindi parliamo di stessi falli, quindi non siamo una squadra più fallosa degli altri c'è una differenza in otto partiti di due falli in più però abbiamo preso 36 ammunizioni, 34 ammunizioni contro 17, 7 espulsioni contro una e non siamo mi sembra una squadra così feroce e cattiva da meritarsi su 127 falli 34 ammunizioni no no ci stanno falli e falli, certi sono ingenui quando fai un fallo tattico dopo 30 secondi, dopo 20 secondi o quando fai un fallo tattico che non serve perché magari dietro la linea della palla se hai sei giocatori tuoi contro due non è da fare il fallo tattico quindi non sto dicendo che di 127 falli sono stati tutti inventati sicuramente molti potevamo evitare di prenderli però c'è anche un dato che mi dà un po' fastidio che è quello che è possibile che facendo i stessi falli noi rispetto alle squadre avversarie noi abbiamo subito 34 ammunizioni e gli altri 17? possibile? però senza alibi al di là di tutto dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti se no non vedo ottimismo se non dovesse succedere poi dopo ci può sempre stare il discorso della matematica ma diventerebbe ancora più difficile di quello che già è la non vittoria Claudio Donato pianetaazzurro.it prego salve mister le volevo chiedere queste sono un po' le gare della vita come le ha definite anche lei in certi momenti al di là del gioco, degli schemi ci si aggrappa sempre a un leader un leader carismatico che si prende un po' sulle spalle tante responsabilità secondo lei in questa squadra chi può essere il leader e soprattutto quanto è mancato lo spunto di alcuni calciatori più estrosi nei singoli perché queste partite si decidono come ha detto lei anche su uno spunto singolo, su un calcio di munizione quanto è mancato questo aspetto a questa squadra e le ripeto il leader chi può essere in questo momento che può prendersi sulle spalle un po' questa situazione? quella del leader il leader non ci si diventa in un giorno nel senso dovrebbero essere tutti leader di se stessi e di conseguenza della squadra poi in una stagione diciamo che chi sta facendo sempre meglio degli altri in automatico si sente più autostima e diventa di conseguenza più un giocatore che ha coraggio che si fa dare la palla purtroppo noi in questa stagione qua molti hanno reso meno rispetto alle proprie qualità e di conseguenza si viene un po' a perdere quello del discorso dei leader tornando al discorso quell'altro oggi non facciamo in tempo a andare ad analizzare il perché il Benevento si trova in questa situazione avremo più tempo avanti per discutere sono comunque tanti i motivi non è uno non sono due sono diversi motivi e oggi non facciamo in tempo ad analizzare o neanche a migliorare molti dobbiamo solo cercare di lavorare e provarci provarci e crederci perché se non ci provi è difficile contiene i risultati Oreste Tretola il mattino online prego ciao mister torno sull'attacco e ti chiedo se rischiererai Carfora e Pettinari anche lunedì che secondo me hanno fatto molto bene a Bari e poi il presidente insomma dopo Bari so che vi ha portato insomma vi ha parlato è stato con voi qualche giorno fa è venuto all'allenamento ecco in questo momento in che modo vi sta vicino cosa insomma vi dice sta vicino alla squadra come starebbe un padre quando i figli hanno dei problemi e quindi è presente con la sua presenza a volte con dei messaggi con una telefonata con me vive anche lui in maniera questa situazione essendo il primo tifoso essendo quello che che investe eppure tanto è il primo essere triste di questo di questo momento ma come deve fare un buon padre non deve farsi vedere scoraggiato dai propri figli quindi anche dopo Bari ci ha comunicato di stare con la testa alta e di provarci perché se ci provi come ho detto prima aumentano le probabilità se si molla diventa diventa difficile anche fare un passaggio Sonia Lantella Autoshannel prego sì io mi riallaccio al discorso attaccono perché è un po' il limite di questo Benevento il tuo Benevento che mi è piaciuto di più è stato quando sulla tre quarti hai portato giocatori anche che vanno facilmente al tiro penso ad Acampora a Teio che per me è il calciatore più in forma che va tenuto più vicino alla porta poi penso a Farias che col Pisa non mi è piaciuto ma è anche vero che quando giochi contro squadre molto veloci che arrivano sulle seconde pale di intensità giocatori con passati lenti vanno più in difficoltà ti porto un pensiero di Agostinelli che insomma è intervenuto lunedì ad otto gol e lo ha detto le hanno provate tutte tutte anche il giovane Carfor ad un certo punto io fossi nell'allenatore di quel Benevento mi rivolgerei solo ai senatori e direi ora in campo ci andate voi retrocedete retrocedete voi vi assumete voi le responsabilità ma siete voi che dovete andare in campo non i giovani qual è invece il pensiero di Stellone e soprattutto sulla tre quarti sei d'accordo che forse un po' più di esperienza alle volte un tiro sporco può risolvere con le qualità di Teio giocando più vicino alle punte lo vai a sfruttare di più a Bari abbiamo messo un po' più di esterno che cambiava solamente che sul terzino loro doveva uscire lui ma quando giochi con 4-3-2-1 4-3-1-2 a volte comunque sempre la mezzala o uno dei tre attaccanti esce sul terzino quindi non è cambiato niente spesso sono andate anche azioni perché lui stava e si trovava comunque tra le linee l'allenatore è responsabile tanto quanto i giocatori e dare troppa pressione ai giocatori io non sono dell'idea anche perché tutti ci tengono a far bene nessuno si allena per giocare male nessuno si allena per non giocare darli oggi a una squadra secondo me che ha una grande tensione una grande pressione dargli un'ulteriore pensione quasi che io mi stacco da loro dove io dico siete voi io non c'entro niente non mi piace per niente l'allenatore non mi piace per niente io sto con loro soffro con loro e l'allenatore ha il compito di analizzare vedere allenamenti partite e cercare di dare indicazioni poi è normale che scendano in campo loro ma il dire ora pensateci voi sembra un po' come io più di questo non posso fare ma i senatori io parlo con i senatori parlo con tutti ai senatori gli si dice qualcosa di diverso ma lo scaricare o il dare troppa responsabilità troppa pressione può avere anche a volte l'effetto contrario io mi fido di loro se già giungo non mi deludete già in automatico secondo me è un qualcosa che gli fa subentrare un timore una paura e già ce l'hanno per conto loro già ce l'hanno per la situazione e devono avere l'allenatore che li comunica in una certa maniera non che si stacca da loro secondo me Franco Santo Corriere dello Sport prego sì mister volevo solo sottolineare il dato statistico in modo che positivo qual è? no statistico tra noi e la Spal cioè il Benevento ha problemi in casa è evidente la Spal da 5 partite in trasferta perde sempre insomma noi abbiamo fatto in 8 partite della mia gestione abbiamo fatto 5 partite fuori casa e 3 in casa diciamo che se in casa vinciamo questa che è la quarta abbiamo fatto 4 partite 7 punti 3 Brescia 3 Spal e uno con il Como e poi c'è la sconfitta che non è una brutta media 4 partite 7 punti di tutte le altre squadre che è stata in lotta con noi siamo l'unica che dovrà fare 4 partite in casa e 3 fuori mentre le altre tutte ce le hanno 4 fuori e 3 in casa ma oggi in questo momento qua veramente tra casa e fuori conta poco affrontiamo una squadra che come noi era partita con altre ambizioni hanno fatto un altro mercato così come a gennaio hanno cambiato anche loro 3 allenatori ma i risultati non stanno cambiando e quindi anche per loro è la partita della vita e quindi sarà una partita dove penso noi cercheremo di vincere e loro cercheranno di vincere perché un pareggio taglierebbe in automatico o diminuirebbe in maniera drastica le probabilità di salvezza attraverso i play-out quindi sarà una partita per me non bella sarà una partita che potrebbe diventare bella se vai in vantaggio e se la vinci e quindi sarà una partita di tensione dove dobbiamo portare dalla parte nostra gli episodi su un fallo atrale su un calcio d'angolo su una punizione sul non prendere una punizione stupida sullo stare veloci su una palla quando c'è una punizione contro dovremo cercare di portarla a casa così è l'unica è l'unica situazione in questo momento poi volevo chiedere al volo domani è Pasqua c'è un programma particolare oppure il lavoro di Pasqua si fanno un pranzo normale e ci alleniamo il pomeriggio apposta così non fanno un pranzo troppo lungo e così consumano quel pranzetto che si sono fatti con le proprie famiglie ma andare un giorno prima ulteriore in una settimana così lunga e ritiro con una partita così importante credetemi diventava ancora più pesante e pensi ancora di più a quello che sarà la partita meno ci pensano e meglio è Luca Maio la Gazzetta dello Sport prego e mister una cosa voglio ritornare i dati sui falli fatti subiti ammunizioni e espulsioni hai parlato di fastidio giustamente alla luce di quei numeri insieme al fastidio c'è anche qualche cattivo pensiero di qualche disegno contro il Benevento non riesco a capire il motivo non penso spero di no ma non vedo il motivo perché dovrebbe essere così no no non penso alla 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 cattiva fede in questo no non ci voglio pensare anche perché non vedo non vedo il motivo insomma di questo bene grazie a tutti la conferenza stampa termina qui e buona Pasqua appuntamento lunedì grazie non facciamo un brindisi di Pasqua una cosa o no sì abbiamo un secondo 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 un secondo